E' Alessandro Bond dell'industria al forniture Moro 3CF il vincitore della diciannovesima coppa Città di Offida, trofeo Beato Bernardo di 95 km, organizzazione a cura della SCA Offida. Lo junior Feltrino si presenta all'ultimo chilometro insieme al campione Umbro Giacomo Cassarà della second Fornopioppi. I due si danno battaglia e alla fine Bond a trovare l'affondo buono, tagliando il traguardo con 10 secondi di vantaggio e ottenendo così il bis stagionale. Secondo è Cassarà, mentre sul terzo gradino del podio sale il marchigiano Gabriele Brega del team ciclistico Campo Cavallo. Alessandro, gara dura doveva essere, gara dura è stata e che finale hai lottato fino all'ultimo metro? Sì, avevo cercato la fuga pinta ai primi chilometri, infatti nel primo giro ero già all'attacco. Dopo ci sono stati una serie di attacchi dei miei compagni e io all'ultimo sono andato via con il ragazzo dell'Umbria e siamo arrivati all'arrivo. Zone straordinarie in cui pedalare queste? Sì, sono veramente dei bellissimi luoghi e delle salite anche adatte alle mie caratteristiche. È un paesaggio simile anche dove abito io quindi mi trovo diciamo bene. Hai una dedica per questa bella vittoria? Beh sì, la dedico, non è stato un periodo facile ultimamente, ci tenevo questa vittoria, la dedico a tutte le persone che mi hanno sostenuto, i miei genitori, i miei compagni di squadra, in particolare i miei concittadini Matteo Secchetti e dopo a tutti coloro che mi aiutano ogni giorno. Grazie a tutti!